L'Abruzzo dice stop all'accoglienza negli hotel dei rifugiati ucraini. Si ferma a 9.088 persone, il conto delle persone ospitate accolte. In Abruzzo lo stop è contenuto in una nota ufficiale, afferma del direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, Mauro Casinghini, che ha inviato associazione e autorità. Le strutture, complice anche il grande afflusso turistico, sono complete. L'ospitalità degli ucraini in fuga dalla guerra si regge per oltre la metà grazie all'accoglienza negli alberghi. La convenzione con le strutture però è stata rinnovata fino al 31 dicembre. Gli alberghi ottengono 65 euro al giorno per ogni ospite. Ovviamente le persone già presenti potranno restare. Anche gli hub vaccinali, che torneranno alla piena operatività per la somministrazione dei vaccini, potranno ospitare solo residuali attività di accoglienza di piccoli numeri di cittadini ucraini, che poi verranno sistemati dove possibile. Abbiamo fatto un quadro più complessivo, perché non è una questione solo alberghiera, perché gli alberghi stanno facendo tanto e potrebbero anche fare di più. Il problema è il sistema, che è arrivato al limite operativo per poter garantire un'accoglienza a tutto tondo, il che significa non solo la parte alberghiera, ma anche la parte dei servizi soprattutto. calcolando anche che il nostro volontariato, che si sta adoperando in questo momento per l'accoglienza dei profi ucraini, è lo stesso che sta facendo l'assistenza ai centri vaccinali, che stanno riprendendo l'attività, ed è lo stesso che sta combattendo contro gli incendi boschivi, perché ormai il periodo è quello. All'Aquila oggi c'era anche il direttore operativo per il coordinamento delle emergenze del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile Luigi D'Angelo per partecipare ad una videoconferenza. Ad oggi abbiamo un dato che è riferito appunto al numero di ingressi che supera i 150.000. Gran parte di queste persone hanno già fatto la domanda di permesso di soggiorno per motivi di protezione temporanea, quindi sono proprio loro il nostro obiettivo, cioè dare assistenza e supporto proprio a coloro i quali fanno la domanda per protezione temporanea. Un'altra emergenza del periodo è quella rappresentata dagli incendi, questa la situazione nazionale. Questo lo sapevamo e si sta verificando tale, è uno degli anni più impegnativi rispetto a quelli precedenti. Notiamo una ciclicità ogni cinque anni a partire dal 2007 e quindi ad arrivare al 2022 di anni particolarmente complessi e impegnativi. Lo stiamo vivendo, stiamo lavorando costantemente con tutte le regioni e purtroppo quest'anno ho fatto già registrare degli incendi particolarmente importanti nel nord-est d'Italia. Abbiamo visto cosa è successo a Carso del Triestino, quello che è successo a Lucca.